Il ministro dell'istruzione Valditara ha firmato il decreto attuativo che assegna più di 8 milioni di euro a 14 reti di scuole statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per assumere nuovo personale docente fino alla fine dell'anno scolastico. L'iniziativa è parte di Agenda Sud, il piano di interventi lanciato dal Ministero dell'istruzione per ridurre i divari negli apprendimenti tra le diverse aree del paese. Grazie a queste risorse, dicono dal Ministero, già da gennaio ciascuno degli istituti scolastici interessati potrà disporre di cinque nuovi docenti. Il provvedimento fa seguito a quello dello scorso ottobre con il quale il ministro aveva disposto l'assegnazione di 20 insegnanti in più per le scuole di Caivano. Riuniamo l'Italia, ha spiegato Valditara, a partire dalla scuola questo decreto ha aggiunto e un'altra tappa nel percorso intrapreso con Agenda Sud. Per la prima volta abbiamo la possibilità di colmare il divario esistente tra le diverse aree del paese, dando a tutti gli studenti le stesse opportunità formative e dunque lavorative, a prescindere dal luogo in cui vivono. I docenti, ha aggiunto Valditara, così come i dirigenti e tutto il personale, sono i pilastri su cui poggia il sistema di istruzione. Valorizzare il loro ruolo e la loro presenza, ha concluso il ministro, è fondamentale per apportare un cambiamento significativo all'interno delle scuole. In Molise intanto si continua a discutere sul piano per il dimensionamento scolastico approvato la scorsa settimana in consiglio regionale. A Ripalimosani è in programma nel pomeriggio un'assemblea per illustrare nel dettaglio la decisione assunta dalla maggioranza a Palazzo d'Aimmo, che accorpa la scuola con altri comuni.